Manca poco. Eppure anche stavolta rischiamo di dimenticarcene. Dovremmo fare qualcosa. Anzi, soprattutto oggi dobbiamo fare qualcosa. Qualcosa di più. Qualcosa di bello. Tiz, che dici? Vuoi provare a scrivere un libro? Gaetano Salvemini torna a casa, a Molfetta, per il suo centocinquantesimo compleanno. L'occasione per ripercorrere vita e pensiero di un intellettuale caduto troppo presto nel dimenticatoio. La sua eredità è uno scrigno, ancora tutto da scoprire. Emiliano, abbiamo bisogno anche di te. Andiamo a Molfetta. Non mollare è un film documentario che si svolge durante l'intera giornata dell'8 settembre del 2023. Per battere questo giac abbiamo bisogno di voi. Grazie.